padre agostino comincia l'anno scrivendo una lettera a padre pio chiedendogli alcune cose che non erano emerse nelle lettere precedenti e dove padre pio taceva anzi il giovane fra pio da pietrilcina giovane sacerdote taceva sull'argomento siamo ancora nel periodo in cui padre pio si trova a pietrilcina per gli ultimi mesi prima di ripartire per foggia e quindi poi a san giovanni rotondo nulla mi dici circa l'ultima grazia che chiediamo a gesù per il tuo ritorno tra noi gesù tace ancora tu non mi dici nulla sappi che tutte le anime di gesù lo pregano con fervore l'anima che tu conosci dinanzi al signore finirà martedì venturo le tre novene alla vergine di pompei quanto sarei felice se tu mi facessi sapere al più presto che gesù ti vuole nel chiostro